Diciamo che abbiamo fatto una grossa partita, sappiamo i nostri limiti, quindi dobbiamo tenere l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi. Diciamo che ho avuto anche un altro cross che forse avrei potuto sfruttare meglio, però va bene com'è andata. C'è il rammarico per il pareggio, però va bene così. In questi casi, Saveriano, è vero che si cerca di guardare il bicchiere a mezzo piano del punto, però inevitabilmente quel minuto un po' di follia che altrimenti non ci fosse stato, staremmo parlando di un'altra partita probabilmente. Sì, sì, probabilmente staremmo qua a parlare di un'altra partita, però purtroppo è andata così, abbiamo avuto un minuto diciamo come la Feralpi, abbiamo fatto secondo me una partita perfetta, tatticamente, tecnicamente, su tutti gli aspetti e quindi è stato davvero un peccato prendere il gol così. Si è parlato tanto della coppia Infantino-Zecca nelle ultime settimane, però oggi questa coppia Infantino-Sparacello non è che sia andata male. No, no, ma siamo tutti buoni giocatori in attacco, quindi chi gioca fa sicuramente la sua parte e dimostra tutto il suo valore, quindi non c'è problema in attacco chiunque gioca. Nelle poche occasioni di partenza che avete avuto, anche perché per larghi tratti avete tenuto in mano il gioco, cosa è mancato per arrivare più vicino alla porta? Quando riparti, probabilmente eravamo bassi, fare 70 metri di campo, palla al piede, arrivare in porta è anche difficile, quindi non penso sia mancato qualcosa, ci sono anche gli avversari che ci corrono dietro, quindi non è semplice e facile sicuramente. Saveriano, questo pareggio comunque possiamo dirlo è la migliore risposta a martedì sera in cui si era visto un termo totalmente fuori partita? Sì, 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 forse è la migliore risposta, se avessimo vinto era meglio, a Fano purtroppo abbiamo fatto una bruttissima partita, forse è una delle peggiori da quando io sono qui, quindi non è stata una partita brutta su tutti gli aspetti, quindi dovevamo sicuramente riscattarci e far vedere che non eravamo quelli. Io non voglio girare il coltello nella piaga, però tre partite, due gol con la numero 7. Meno male, quindi ho preso la 7. Sì, 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 sì.